Namaste, oggi parliamo di fobie e di paure da superare, quelle paure che in qualche modo si mettono tra noi e la nostra vita. Queste fobie, queste paure in realtà producono tre cose importanti. La prima, producono dei sintomi veri e propri che a noi sembrano incontrollabili. A volte può essere l'ansia, il mal di testa, addirittura i dolori al petto, no? Due, ci costringono in alcuni casi ad evitare delle situazioni, a non fare delle cose che magari vorremmo fare. Tre, ci mettono a confronto con la nostra razionalità e irrazionalità. Da una parte sappiamo che una paura può essere infondata, non c'è una ragione vera e propria, non stiamo davvero per subire quello che stiamo immaginando. Ma dall'altra c'è l'irrazionalità della nostra mente che ci blocca. Che cosa si deve fare? Beh, innanzitutto non sempre si deve superare le proprie fobie. Se queste non intervengono nella tua vita quotidiana, possiamo tranquillamente lasciarle lì. Se invece sono un ostacolo alla realizzazione, alle tue azioni, alla tua vita, a quel punto bisogna affrontarle. Fortunatamente oggi conosciamo e abbiamo dei mezzi molto importanti, alcuni dei quali vengono proprio dalla meditazione e dallo yoga. Per cui segnati questo video perché domani nella parte 2 ti darò degli esercizi pratici e delle modalità pratiche per superare appunto quelle piccole fobie che magari ti ostacolano un pochino la vita. Namaste. Grazie. Grazie.